Questo è un esempio per tutti i ragazzi e per tutte le marche, noi siamo ovviamente molto orgogliosi soprattutto perché sono delle ragazze ma l'esempio è importante per i giovani perché questo dimostra che senza tenacia, senza lavoro, senza impegno, senza fatica non si raggiungono gli obiettivi e invece impegnandosi degli obiettivi anche importanti che sembrano impossibili possono essere raggiunti. Quindi un esempio per le marche e un esempio per i ragazzi che iniziano a praticare uno sport. L'emozione è stata forte e a due minuti alla fine di gara 2 a Bologna ci si è apparso davanti tutto quanto quello che abbiamo fatto, i sacrifici, le sconfitte degli anni precedenti ed è stata una soddisfazione grande per la nostra società, per le ragazze che hanno lavorato tantissimo e quindi una soddisfazione, una festa molto importante e forte fino in fondo. Questi due anni qua in Ancona è stato un bellissimo percorso che ho fatto con le ragazze dove le ho viste crescere, anch'io sono cresciute insieme a loro e diciamo lo scivolone dell'anno scorso è stato un po' mediato poi dal successo di quest'anno perché vincere gara 2 in casa a Bologna è stato doppiamente bello e quindi è sicuramente l'obiettivo giusto per un gruppo di ragazze come il nostro che però non è un obiettivo raggiunto, è soltanto un punto di partenza per poi da qui ripartire e fare altre esperienze sicuramente più belle perché il campionato da uno che ci sono state è veramente uno spettacolo.